Buongiorno, bentrovati dal TGR dell'Umbria. Non è stato ancora aggiornato il bollettino giornaliero della regione sull'andamento del contagio da coronavirus. Intanto l'Inail ha diffuso i dati delle denunce di infortunio sul lavoro legate proprio al Covid-19. Cominciamo da qui oggi con Filippo Pala. Sanitari e medici, prevalentemente donne, oltre i 50 anni. Sono 202 in Umbria le denunce di infortunio sul lavoro legate al Covid-19 che in tre casi hanno portato alla morte del lavoratore. Sono dati dell'Inail pubblicati a margine del rapporto annuale dedicato alla nostra regione per il 2019, anno in cui in generale gli infortuni sono stati in calo. I casi di coronavirus denunciati sul lavoro riguardano nel 61% dei casi donne, con la fascia d'età più colpita tra 50 e 64 anni, dove sono il 52% del totale. Il settore più colpito è quello della sanità e assistenza sociale, con il 61% dei contagi, mentre tra le professioni maggiormente interessate ci sono i tecnici della salute, il 41% e i medici, con il 17% delle infezioni. Un lavoro, quello degli Umbri, spesso messo in crisi dalla pandemia, tanto che quasi 75.000 di loro hanno dovuto ricorrere all'integrazione salariale Covid negli ultimi mesi, quasi 60.000 in provincia di Perugia e 15.000 nel Ternano, secondo dati IMS forniti dalla CISL Umbria. Anche qui, situazione più gravosa per le donne, che sono 40.000, e va considerato che ci sono altri 195.000 lavoratori che prendono la cassa integrazione ordinaria o l'ammortizzatore in deroga. Un momento drammatico che per il segretario del sindacato, Angelo Manzotti, si somma alla difficoltà già esistente di un modello regionale da cambiare.